ciao a tutti eccomi qua con un nuovo video nel video di oggi andiamo a fare un collage utilizzando il sito pixlr vi ricordo che se volete avere la versione a pagamento ma con uno sconto attraverso il mio codice sconto potete approfittare di iscrivervi con un prezzo scontato nel video di oggi andiamo a vedere come fare un fotomontaggio di sovrapposizione tipo collage e quindi per questo tutorial andiamo a utilizzare il sito pixlr che sia gratuito ma a pagamento vi ricordo che gratuitamente ci sono dei limiti ma si può anche fare tranquillamente qualche lavoro gratuito ma se volete andare a fare cose più avanzate ovviamente c'è la versione in abbonamento che alla fine non costa nemmeno tanto andiamo ad aprire il sito ecco qui il nostro sito ora andiamo a vedere andiamo a cliccare su uno dei due allora qui abbiamo un progetto di grafica quindi adesso la schermata si è fatta in questo modo inizia un progetto di grafica oppure inizia un progetto editing per il momento noi andiamo a cliccare uno dei due e andiamo qua fatto questo io adesso voglio andare visto che stiamo lavorando nella x andiamo a in immagini voglio andarmi a cercare un'immagine che mi piace vedete qui nelle immagini ci sono degli stock che ci dà il sito diamo carica altro questo è quello che ci da lui andiamo a mettere woman vediamo cosa ci esce andiamo a prendere questa foto io vado a utilizzare una foto che mi dà il sito vado a fare ok e aspettiamo il caricamento andiamo a mettere originale e facciamo applicare allora come vedete x ci dà questi questi template se invece vogliamo andare in nell'altra versione siamo un po come photoshop torniamo sull'home page e vado qua a cliccare e torniamo sulla foto ed ecco qua che questa qui a una versione più semplice ok vedete che abbiamo questo qui allora dobbiamo realizzare questo sfondo duplicato quindi andiamo a fare duplica e andiamo a disattivare andiamo a duplicarlo un'altra volta e andiamo a disattivare questi due livelli sblocchiamo sblocchiamo questo adesso io vado su regolazioni e vado a mettere auto bianco e nero ecco qua vedete abbiamo messo la foto in bianco e nero andiamo ad applicare questa qua di sopra vado a prendere la selezione e mi voglio andare a mettere un pezzo della persona una volta che seleziono mi sposto vedete ed eccolo qua andiamo a fare selezione inverti selezione e andiamo a fare cancella andiamo sul livello e facciamo cancella clicchiamo qua vedete che abbiamo fatto la selezione vedete il fondo è in bianco e nero mentre sopra ea colori ok andiamo adesso a creare sopra lo sfondo quindi a colori un nuovo documento andiamo a fare vuoto vado a prendere vedete la selezione e mi vado a selezionare qui prendo il secchiello e vado a mettermi come colore un bianco riempio ecco qua vedete intanto disattivo un attimo questo deseleziono e vado vedete a ingrandire un pochino riattivo questo in modo che me lo metto vedete qua in questo modo eccolo qua e me lo vado a mettere così faccio meglio sposto ecco qua vedete lo faccio in questo modo e lo mettiamo così ok il livello che ho messo sopra vedete è a colori questo qui io lo tengo semplicemente sotto in modo che posso avere un testo che si vede vado qua e vado a fare fluidifica e mi vado metto la dimensione più larga e vado vedete a modificare un po questo semplicemente per dare un effetto un po movimentato ecco qua scriviamo prendiamo ratti di testo aggiungiamo e andiamo a scrivere estate ingrandiamo mettiamo la dimensione più grande ecco qua e andiamo a mettere la scritta sotto il carattere della cornice bianca e la andiamo a inserire qua tornando qui possiamo andare a fare modifica e qui scegliete il carattere e qui andare a mettere anche un interlinea oppure andare addirittura a mettere un'ombra mettiamo più scuro ok vediamo ok sfocatura ecco qua mettiamo l'opacità 0 ed ecco qua che vedete non si intravede però c'è un po d'ombra allora andiamo a duplicare questo duplichiamo e ce lo spostiamo qua e qui andiamo a scrivere selezioniamo dentro 2 mila e 22 andiamo a metterlo qua ed ecco qua vedete abbiamo creato un effetto semplice ma di effetto per finire andiamo a fare salva consigliato qui potete mettere il 100% e fare salva come jpeg ed ecco qua con questo il tutorial è finito spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial grazie e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.